Fuoco nemico! Signore! Formazione! Signore! 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 Pronto, 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 signore! Grazie a tutti. 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 Pronto, signore. Grazie a tutti. Continuate ad avanti. Informazione. Grazie a tutti. Continuate a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . , grazie a tutti. Forza a tutti. Grazie a tutti. . , grazie a tutti. 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 , grazie a tutti.